Il mio è un po' di mancavo dalla competizione E il mio... E Michele scusami, sta arrivando, ecco dopo tanti ragazzini permettetemelo Arriva un po' il decano se vogliamo, l'uomo, la quercia dell'atletica pugliese Arcangelo Pazienza, anche lui è appena arrivato sullo borgo di Monopoli Sì, lasciami finire un attimo l'intervista perché i ragazzi sono sudati Quindi dicevamo Mimmo, eri un po' teso, dopo 13 mesi si torna a correre finalmente Qui trovo una famiglia allargata, io sono molto affezionato alle mie radici Sono barlettano, la Puglia è casa mia E ho trovato l'aeronautica che è la mia forza armata E che mi ha permesso sempre di sognare questo sogno, il sogno della corsa Ad abbracciarmi qui sull'arrivo e sono contentissimo perché manco dalle gare di 13 mesi Molti di voi sanno che io ho fatto un intervento chirurgico a tutti e due i piedi E credo che questo sia l'emblema, l'esempio di come si possa cadere Ma si possa ricominciare e rialzarsi più forti di prima Grande Mimmo Ricatti, grandissimo anche con questa annotazione È arrivato il quinto classificato Un complimento veramente sincero a questo ragazzo Daniele che è un ragazzo generosissimo E tra l'altro fa parte della famiglia aeronautica Alcangelo pazienza, alcangelo pazienza anche A proposito, allora un complimento da un nazionale della Maratona Italiana Dice tutto, per me questo è il premio di oggi I complimenti di Mimmo sono la più immensa gratificazione Grazie a tutti